ciao ciao a tutti quanti allora oggi voglio fare un video di ringraziamenti a tutte le persone che mi stanno guardando alle persone che si sono iscritte al mio canale vi ringrazio tantissimo per l'appoggio che mi date giorno dopo giorno a vedere il vostro affetto nei miei confronti vi mando tantissimi saluti e un bacio ciao